Paris Fashion Week 2017 Paris Fashion Week 2017, il calendario degli eventi da non perdere Le grandi sfilate di moda si chiudono con la Paris Fashion Week, dopo New York, Londra e Milano, Parigi diventa protagonista e sfondo delle collezioni Primavera, Estate 2018 dei più grandi marchi internazionali di haute couture La settimana di moda parigina comincia lunedì 25 settembre e terminerà martedì 3 ottobre, per nove giorni allinsegna del glamour e del look Durante la Fashion Week, le strade di Parigi si popolano di modelle, di stilisti, di fotografi, di fashion blogger, influencer, giornalisti e le tante celebrities che ruotano attorno al mondo della moda e del look Diamo un'occhiata al calendario per scoprire cosa ci aspetta in questi nove giorni di sfilate e eventi esclusivi Il primo giorno di apertura della settimana della moda parigina coincide con l'ultimo giorno della Milano Fashion Week e, forse per consentire ai fortunati che partecipano a entrambi gli eventi di spostarsi da una città all'altra, ci sarà solo la sfilata di Iaquemus, uno dei più interessanti stilisti della nuova generazione La sfilata è prevista per le ore 20. Martedì entriamo già nel vivo delle sfilate, con la presentazione della collezione dei grandi marchi, come Christian Dior e Ives Saint Laurent, rispettivamente alle 14.30 e alle 20. Ma tra i due big della moda, sfileranno altre firme non meno interessanti, come Pascal, Koke, e Olivier Tyskens La giornata di mercoledì comincia alla grande, con la sfilata di Lacoste alle 10 e Maison Margiela alle 11. Alle 12 sarà la volta di Landine e poi di seguito Alto Edria e Svan Noten Alle 16 si potrà assistere alla nuova collezione di Guilaroque e alle 17 di Rochas. Con le Maire alle 18, Kenzo alle 20 e Youngly alle 21, si concluderà la terza giornata della Paris Fashion Week. Il 28 sarà una giornata molto piena di appuntamenti, si comincia alle 9 con Shloé e poi a seguire Atleen, Manisharora, Andemeulemester. Alle 14 sarà la volta della sfilata di Paco Rabanne e alle 15 di Balmain. Le altre sfilate della giornata saranno quelle di Aki Xoter, Karven, Zara Umarigar, Rick Ovens, Pascal Millet, Isabelle Marante, per concludere, off, vite alle 21. Con il weekend alle porte, la settimana di moda parigina si fa sempre più calda. Venerdì 28 i fortunati possessori dell'invito potranno assistere alle sfilate di Loewe, Uma Avrong, Vanessa Seward e i sei migliache. Nel pomeriggio, invece, sfileranno Christian Vinants, Nina Ricci, Ungaro, Undercover, Andrew Gienne, Luzio L., per concludere, in serata, con Alexis Mabille e Yoi Yamamoto. Anche sabato vedremo alternarsi grandi firme a nomi di giovani promesse, la giornata sarà ricca di eventi, a partire dalle 9.30, con la sfilata di Giulia Watanabe. Alle 10.30 sarà il momento di Eider Eckermann, a seguire, Veronique Leroy, Mugler, Acne Studios. Nel pomeriggio, occhi aperti per le novità di Elie Saab, alle 15, e di Vivienne Westwood, che sfilerà alle 16. Dalle 17.00 potremo assistere alla sfilata di Commedes Garons, Lutuzara, Raul Mishra e, alle 20, Sonia Richien. Domenica sarà una grandissima giornata, con le firme più prestigiose della moda già dal mattino, alle 10.00 si potrà assistere allo show di Givenchy, mentre alle 11.00 sarà la volta di Balenciaga. A seguire, Celine, Masha Ma, Acris e, alle 17, occhi puntati sulle creazioni di Valentino, ormai di casa a Parigi. Alle 18.30 tutti allo show dell'originale John Galliano, mentre alle 19.30 chiuderà la giornata la sfilata di Anne-Sophie Madsen. Molto pieno anche il calendario del penultimo giorno di sfilate, che avrà inizio con la sfilata di Stella McCartney alle 10.00. A seguire, gli show di Sakai, Leonard Paris, Gian Battista Valli, Liselore Frovin, Valentini Wudashkin. Alle 16.30, l'attesissima sfilata di Hermès e alle 18 Shazikin, Esteban Cortazzari e Alexander McQueen, che con il suo show concluderà le sfilate della giornata. L'ultima giornata non può che essere inaugurata dalla sfilata di Chanel, alle 10.30. Gli altri marchi a presentare le collezioni primavera, estate 2018 saranno Agnès B, Moncler Gamme Rouge, Vendigin. Alle 14.30 sarà la volta di Niu Niu, mentre alle 15.30 sfilerà Yunko Shimada e, a seguire, Tom Bromne, Monion Gaye e, alle 18.30, Louis Vuitton. Ultimo show di questa edizione della Paris Fashion Week sarà quello di Paul e Joe, alle 20. Come sempre, saranno tanti i nomi importanti, sia in Passerella che in Front Row. Finora, i nomi più accreditati sono quelli di Jennifer Lavrence, Natalie Portman, Kristen Stewart e Lily Rosedad.